E' stato immortalato dalle telecamere di videosorveglianza il volto del bandito che ieri con altri due complici ha rapinato la filiale Banca Tercas di Corso Adriatico a Sant'Egidio alla Vibrata. Le immagini consegnate al reparto operativo dei carabinieri sono chiare e fotografano in particolare il volto del giovane bandito che in banca è entrato a volto scoperto contrariamente al complice che indossava una calzamaglia. Erano le 9 del mattino quando i due malviventi hanno fatto eruzione in banca minacciando dipendenti e clienti presenti nella sala fingendo di essere in possesso di un'arma nascosta dentro le tasche dei giubbotti ma in realtà i banditi non erano armati. La rapina è durata pochissimi minuti, i due malviventi hanno preso i contanti, circa 30.000 euro, e sono fuggiti all'esterno dove c'era un terzo complice a bordo di una Fiat Uno risultata rubata la scorsa notte ad Alba Adriatica, ad una cittadina romena che non si era nemmeno accorta della scomparsa della sua utilitaria. Le indagini da parte dei carabinieri proseguono ora per identificare l'intera banda.